Prima di tutto complimenti. Grazie. Vittoria preziosa oltre ogni immaginativo. La scelta di questo 3-4-3 iniziale che ha dato tutti vuoi, che al primo tempo non abbiamo corso nemmeno un pericolo. La ripresa forse abbiamo sofferto un danni nero di più. Sì, è stata una scelta pensata e ripensata più volte, vi dico la verità. Ho sciolto un po' le riserve, sono ovviamente stamattina alle 11, dopo la camminata con la squadra, perché era un'idea che avevamo lavorato con la squadra, perché andando a studiare la lucchese avevamo notato che quando aveva affrontato le linee difensive a 3, aveva sempre un po' stentato nell'andare a far gol e poi, secondo me, dovevamo attaccarli in ampiezza, anche se sapevamo che potevamo andare in difficoltà se non riuscivamo a prendere un po' il play quando loro erano in manovra. E poi era una squadra che vuole attaccare immediatamente la profondità e quindi è chiaro che tre giocatori abili nel gioco aereo, come Pinto, Soprano e Codromaz, da questo punto di vista, mi davano delle garanzie e allo stesso tempo, quando attaccavamo, eravamo molto facilmente sulle preventive, perché eravamo, tra virgolette, a incastro. La titubanza era quella che, avendo a disposizione solamente tre centrali, nel caso in cui succedeva qualcosa, saremmo stati costretti a cambiare e quindi la squadra era stata avvertita di questa possibilità perché era chiaro che, in base a come si metteva la partita o alla situazione che poteva uscire, saremmo dovuti cambiare sistema di gioco. Sì, sì, ero contento, perché l'avete visto con quale anima e cuore hanno giocato ragazzi, cioè Aregoni penso sia stato stoico, un eroe per me, e anzi, lasciatemi intanto fare complimenti ai fisioterapisti, al dottore, perché era bloccato di schiena e in due giorni l'hanno rimesso in piedi dopo che aveva giocato due partite da 90 minuti e questo è tutt'altro che scontato se i fisioterapisti o i dottori non avessero fatto un lavoro eccellente, quindi li ringrazio e allo stesso tempo ringrazio Andrea perché ha fatto una prestazione secondo me super e quando vedo giocare con quella decisione si evinceva che i ragazzi insomma volevano portare a casa il risultato, non volevano prendere gol, ci mettevano un'anima in campo e quindi c'era grande soddisfazione a dimostrazione che è chiaro che nel percorso nostro abbiamo sbagliato, ci mancherebbe, però è un gruppo sano, è un gruppo coeso, è un gruppo che ha valori. Peccato nel finale per l'espressione di Codromas. Sì, peccato, non so ora, non ho ancora rivisto le immagini, dalla panchina mi sembrava fuori gioco ma non lo so, l'assistente ha detto che c'era Soprano che teneva in gioco Semprini, è stato un episodio, è peccato perché anche Roberto ha fatto una partita estremamente importante ed è stata anche una scelta vista la linea 3 proprio anche per le palle inattive, perché è chiaro che Roberto ci ha dato grandi centimetri, era già andato vicino anche a Siena, ha colpito il palo e soprattutto la Lucchese ha segnato tantissimi gol sulle palle inattive e quindi avevamo un po' la necessità di alzare un po' i nostri centimetri. Senti, mister, si è tornati a vincere in casa dopo tre mesi. Io ieri ti avevo chiesto quanto è importante questo, il fattore campo, in quest'ultima parte di campionato. È importantissimo, è fondamentale, è stato anche ciò che abbiamo detto e ripetuto più volte ai ragazzi, l'ho detto in riunione tecnica, l'ho detto ieri, l'ho detto prima di entrare in campo. È chiaro che ci sono state, se andiamo a guardare un po' il percorso di questa stagione, abbiamo fatto tante cose buone all'inizio, poi abbiamo sbagliato tantissime cose, abbiamo fatto delle figure pessime, poi ci siamo rialzati, poi siamo ricaduti e gli ho detto che nelle ultime 15 partite ormai vanno affrontate ogni singola gara come se fosse una finale e quando giochi una finale l'unico rimpianto che non deve avere è quella di poter fare per vincerla e non entrare nello spogliatorio e dire potevo fare ma non ho fatto, ho giocato tra virgolette col braccino corto con la paura di sbagliare. E questa era la prima delle 15 finali e avevamo il vantaggio di poterne giocare 9 in casa nostra e quindi in casa noi dovevamo fare nettamente di più rispetto a quello che avevamo fatto nel recente passato e soprattutto dovevamo essere noi a trascinare tutto lo stadio perché siamo noi poi quelli che scateniamo emozioni nel bene e nel male e quindi a seconda di come noi giocavamo sicuramente lo stadio ci sarebbe venuto dietro e così è stato, è chiaro che ce ne manca ancora 8 da giocare in casa ma se questo è il clima è chiaro che possiamo magari raggiungere il nostro obiettivo della salvezza grazie al Bonolis. Una vittoria che non so se possiamo dire che è arrivata di sofferenza, di insieme, Sì, abbiamo sbagliato delle letture, è vero che a un certo punto più diminuivano i minuti da giocare e più che la palla diventava pesante. Questo lo toccavo con mano, infatti ho finito quasi senza voce perché cercavo di stargli addosso perché nel momento in cui hai paura di sbagliare poi rischi di fare il patatrack. Però è chiaro che qualche scelta l'abbiamo sbagliata e potevamo gestire meglio il possesso, potevamo addormentare un po' la partita come eravamo stati bravi a Pesaro negli ultimi minuti alla bandierina con la differenza che però eravamo sul doppio vantaggio, quindi eri molto più sciolto. Però sì, è chiaro che anche da questi episodi passano i punti che dobbiamo fare verso la salvezza. Ci si chiede se questa ora sia la vittoria della svolta, perché va qui alla fine poter giocare delle gare con meno sofferenza, con il fisico, più l'unità. Questa è una domanda che me l'avete fatto tantissime volte ed è un augurio che ce lo facciamo tutti quanti. È chiaro che noi dobbiamo intanto continuare a giocare con questo spirito, con questa anima, con questa volontà di cercare ogni pallone e di interpretarlo nella maniera giusta perché può essere quello decisivo e mi auguro che ci liberi un po' da tutti i pesi. Ma al di là delle interpretazioni, è chiaro che anche gli episodi incidono nel percorso di ogni squadra. Se voi immaginate, all'ultimo minuto finisce la partita Imola pur giocando male, finiva 0-0, la classifica la vedemmo ancora in maniera più positiva. Allo stesso tempo, se Codromaz fa il 2-2, che era ipermeritato per come aveva giocato la squadra a Siena, ancora la classifica sarebbe ancora molto più positiva. Oggi l'episodio è girato dalla nostra parte, perché loro la palla che hanno avuto per pareggiare hanno tirato sopra la traversa. Il calcio è anche questo, ogni sport di situazione è questo. Oggi è andata bene anche a noi su un episodio e spero che questa vittoria possa infondere fiducia per i prossimi impegni. C'era uno dei team poco più di 24 ore fa, ogni tanto la limite dell'area di rigore è di tiro. Sì, no, no, ma è chiaro che oggi è andato bene, ha tirato anche a Rigoni, è stato bravo Coletta. È chiaro che quella è un'arma, ma sono contento perché quella è stata una preventiva fatta al limite dell'area. È chiaro che quando fai le preventive con coraggio e vai là a prenderli, gli avversari sono schiacciati e quando perdi palla o la recuperi puoi immediatamente attaccare con grande pericolosità. Quindi quello è un gol fatto bene da Kodromatz, fatto bene nei concetti, fatto bene tecnicamente e ci abbiamo vinto la partita. Quindi dobbiamo solamente insistere.